Bentornati fratelli di Tuberanza in un nuovo episodio di Giardin 2019 Meno male che le femmine sono sempre più creative E poi purtroppo ci sono fatti Allora detto questo, oggi avremo una sfida Marika mia sorella contro Lino e la penitenza si chiama gemelli Tra poco scopriremo di che cosa si tratta Come questo, il Giovanni Sesto Sesto, fantastico A parte questo, prima di iniziare ricordatevi il pollicione all'insù Per? Per noi Siamo al quinto video registrato della giornata Abbiamo detto quattro volte la stessa cosa e nel quinto non l'hanno ancora capita Ma va bene così A noi ci piacciono le persone che apprendono veloce Allora, Franci Allora, iniziamo alle grandi Sì, dai Oh 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 Ma che sting facendo? Aspetta, il quadro del Marika? Aspetta, non prendere, non prendere, fermi un attimo. Comunque ragazzi vi ricordo che sotto in descrizione il link per acquistare il Jazz Dance 2019 e avete premuto che vi prendesse una mezza paralisi, ok? Ma io devo avere il pad nell'altra mano. Muoviti! Aspetta, 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 guardate che cazzo, guardate quest'idiota, guardate quest'idiota, non è che dice lo cambio, no, non ce la faccio perché questo abito mi tira, lei era unita a se stessa e a lino, e ciò è fortesia, iniziamo? Scusate, vai, Jazz e F, premete A e si parte, bravi! Ok? Ok? Dai, dai, ci siete! Dai, vedi la schiaffi magari, dai! Mamma mia, non c'è nessuno! Bravi! Dai, dai, dai! Dai! Bravissimi! Dai, dai! Dai! Dai, dai! Dai! Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Vai, arrivano, batte la sassaiola, batte la sassaiola! Anji, non tirare! Ragazzi, ci siedi? La cattura non è riuscita, non capisco che cosa state bevendo, ma ok! E questo è l'altro bono! Eppi chi è, Marika? Sì, sai lì! O perlomeno, sicuramente, non sei happy! Dai un vedo! Mi pare tanto adesso un musico! Ah! Mi torno malissimo, te lo giuro! Sì, arrivo! Sì! Sì! Ma dai! Dai! Come le galline! Oh, bravi comunque! Wow! Ma come salgono le stelline, oh! Bravi! No! 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 Che brava! Bravi! 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 Ni! Questa vi era fatta una challenge Bravi Mi sembra la balli Fermi Oh ragazzi guardate Di 400 punti Bravi bravi Non lo so Allora sono sincero ragazzi Sono molto soddisfatto di questa challenge Ma Ma Noi per questo episodio purtroppo Ci dobbiamo lasciare Eh no Eh sì Ragazzi Questa challenge Chiamata gemelli È abbastanza demoniaca Perché vi lascia dei segni Che vi porterete per tutta la vita Non fatelo a casa Ma andiamo Non fatelo a casa comunque Non fatelo a casa Fatelo soltanto con vostra mamma Legate vostra mamma Ma vostro papà Quello deve ne viedere Perché ci bisse ne crea Mai A parte gli scherzi ragazzi Per oggi è veramente tutto Come al solito In descrizione Link per scaricare Scusate Per acquistare Just Dance 2019 E per acquistare La Switch Qualora Non l'abbiate Noi ci vediamo Con il prossimo video Sempre Sono qui Su Tuberanza Ciao 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 Grazie a tutti.